Ho acquistato questo prodotto così, un po' dubbioso l'anno scorso, ma tra i motivi che mi hanno fatto tornare al Belgrat e al Dental Meeting è stato proprio questo. Perché, come posso dire, va bene che dal dentista c'è sofferenza, ma se ce n'è un po' di meno e con un po' di gusto, meglio.